Noi siamo ormai ridotti, come si dice, allo stremo, perché tutti i servizi ospedalieri, pur con grande senso del dovere da parte del commissario straordinario e degli operatori sanitari, pur tuttavia la grave carenza organica del personale e soprattutto la grave carenza di risorse finanziarie, oggi sta mettendo l'ospedale di Civecchia e di Bracciano e i servizi sanitari sul territorio in gravissime difficoltà. Io ho scritto una lettera molto dura nei confronti di Zingaretti, ma no ovviamente nei suoi confronti, perché è lui che ha ereditato questa situazione purtroppo dalla Polverini, pur tuttavia però siccome il diritto alla salute è un diritto sacrosanto riconosciuto dalla Costituzione italiana, non si possono addurre difficoltà di fronte a emergenze quali queste. Noi siamo il primo porto croceristico del Mediterraneo, arrivano qui filippini, giapponesi, arriva gente, spesso portatori di malattie che possono anche essere effettive, che vengono ricoverate in urgenza del nostro ospedale, che è un DEA di primo livello, ma sappiamo tutti che in casi come questo poi si dovrebbe arrivare all'isolamento, a una serie di misure precauzionali che ci sono, ma in una carenza organica come questa, teniamoci conto che le difficoltà e i rischi a come sono esposti sono tante. Ma al di là di questo il problema vero poi è la carenza di primari, di aiuti, di medici. Qui noi abbiamo gente, noi abbiamo Dimito per esempio, un medico è l'unico responsabile oggi di endoscopia che deve fare tre anni di ferie. Non è pensabile che un povero Cristo stia lì a lavorare 12, 13, 14, 15 ore al giorno senza poter minimamente assentarsi. Di fronte a questo occorre uno scatto, una presa d'atto e non ci possono essere tempi da aspettare. Io ieri ho avuto un incontro col sottosegretario alla Sanità, Onorevole Fadda, al quale ho sottoposto questa situazione drammatica. E quindi è ovvio che noi dobbiamo su questo terreno fare ogni sforzo. L'ho richiesto accuratamente al Presidente Zingaretti, farò una delegazione di tutti i sindaci del territorio dell'Asde, ci faremo rappresentare dal collega Zingaretti e dal Presidente Zingaretti e risottoporremmo quelle nostre richieste affinché possano essere finalmente accolte. Anche perché non siamo per nulla soddisfatti dell'incontro che abbiamo avuto col capo di cabinetto Venafro e con la Degrassi, le quali ci hanno obiettivamente esposto le gravi difficoltà e le impossibilità di agire, ma noi non possiamo fermarci di fronte a questo perché io penso che questa situazione rischia che agosto ci fa chiudere alcuni reparti.